Buonasera a tutti e benvenuti. Nel video di oggi parleremo dell'aumento e del prezzo di generi alimentari, quindi sarà sempre un video sull'inflazione, ma questa volta non parleremo dell'inflazione in generale, ma vorrei concentrarmi su questo aspetto che ho visto preoccupa sempre più persone e anche qualcuno di voi nei commenti mi chiedeva appunto di parlare dell'aumento dei prezzi di generi alimentari, di eventualmente la creazione di orti, autoproduzioni. In realtà già avevo parlato sia varie volte dell'inflazione, sia in particolare in un video investire nel cibo in cui appunto davo tutta una serie di consigli, indicazioni su autoproduzione, acquisto di terreni, di generi alimentari anche sui mercati finanziari. E questo tema sta diventando sempre più di attualità e non sono soltanto io a dirlo qualcuno magari di voi particolarmente preoccupati, ma appunto era il titolare della più grande società di pollame del Regno Unito, la Two Sisters, che è stato intervistato dai Reuters e in questo articolo uscito due giorni fa lui stesso rappresenta un quadro allarmante del problema non soltanto dell'aumento dei prezzi nel settore alimentare, ma proprio anche della scarsità potenziale in futuro dei beni. Prima di parlare dell'articolo vorrei comunque darvi un aggiornamento breve sull'andamento dell'inflazione nel suo complesso. L'inflazione, che come avevamo visto già negli Stati Uniti era molto aumentata, continua a essere sostenuta. Gli ultimi dati indicano un aumento del 5,4% nell'ultimo mese, su base anno ovviamente rispetto allo stesso mese dell'anno precedente, che comunque è un livello già di per sé molto sostenuto, ma alcuni analisti e commentatori ritengono che sia fortemente sottostimato perché il calcolo dell'inflazione per esempio non tiene conto degli affitti reali, ma diciamo ha dei parametri un po' standardizzati che non rispecchiano poi l'effettivo affitto che gli americani pagano. E va ricordato lì soprattutto il prezzo delle case e di conseguenza quello degli affitti è andato alle stelle nell'ultimo anno soprattutto, complice anche la politica monetaria di estrema facilità con cui viene creata moneta, a cui poi si è aggiunta la politica fiscale di grandi sussidi, soprattutto dopo la crisi che c'è stata eccetera. E quindi diciamo questo però sta sempre più preoccupando in termini di inflazione, lo abbiamo visto in altri video, non sto a ripetermi, in particolare legata al fatto che questa inflazione che doveva essere transitoria in realtà si sta vedendo che rimane sostenuta e questo problema se è nato dagli Stati Uniti sta riguardando sempre più anche l'Europa e anche qui seppure era molto più bassa rispetto agli Stati Uniti l'inflazione come avevamo visto negli ultimi mesi è molto aumentata soprattutto in termini diciamo percentuali, considerate che l'anno scorso eravamo in deflazione o comunque un'inflazione a zero e per anni è stato così, lo vediamo anche di conseguenza nei tassi di interesse che ci vengono pagati in banca, cioè a zero addirittura i titoli di Stato hanno rendimenti negativi, quindi un sistema anche lì drogato dalla politica monetaria della Banca Centrale europea. Questo però sta creando appunto problemi di inflazione anche in Europa, non sto a dilungarmi sulle dinamiche che ho trattato in altri video, ma concentrandoci in particolare sull'Italia i dati dell'ultimo mese mostrano un'inflazione su base annua in aumento del 2,5% che può non sembrare molto ma è il livello più alto dal 2012, quindi da circa dieci anni e anche questo sta preoccupando e dovrebbe preoccupare, anche perché questa inflazione è concentrata soprattutto sui generi energetici, si è visto diciamo quindi materiali energetici, materie prime, servizi sempre legati all'energia, con un aumento addirittuale del 20%, ma si sta notando un aumento anche nei generi alimentari e comunque di conseguenza anche nei beni durevoli, il cui costo di produzione risente chiaramente anche del costo dell'energia, dei trasporti e così ovviamente anche quello dei generi alimentari, ma poi lo vedremo meglio. Tutto questo preoccupa non tanto per ciò che risulta dai dati, che poi secondo alcuni sono sempre sottostimati, quelli sull'inflazione, diciamo che come già avevo detto in altri video secondo me non si può dire sono sottostimati o meno, certo bisogna vedere come viene costruito il paniere, se è realistico, se non è realistico, chiaro che se ci si inseriscono dei beni che perdono costantemente valore abbassa l'inflazione di tutti gli altri, però dipende secondo me anche da ciò che ognuno di noi consuma, il paniere Istat come quello Eurostat, come quello della CP americana Consumer Price Index è standardizzato e ognuno di noi poi ha delle abitudini di consumo differenti, quindi ognuno di noi dovrebbe capire ciò che consuma, quanto è aumentato di prezzo e non è semplice, l'avevamo visto in altri video, perché appunto dipende dove acquistiamo, dipende anche tante volte dalle confezioni, vengono ridotte le quantità, vengono cambiate le confezioni, cambiate le ricette, la composizione dei prodotti, quindi tutti i trucchetti che le imprese utilizzano per cercare di non alzare i prezzi, la cosiddetta shrinkflation, ma appunto cercare di far credere al consumatore che compra la stessa cosa allo stesso prezzo, in realtà compra un po' meno, insomma queste poi sono diciamo delle tecniche nate dalla necessità delle imprese di vendere, avendo però dei costi sempre più alti delle materie prime, del lavoro, dei trasporti, a fronte di consumatori che spesso hanno un reddito che rimane lo stesso, soprattutto in Europa e soprattutto in Italia purtroppo e tutto questo fa sì che chiaramente se ecco il prezzo di un prodotto sale così in modo evidente ci potrebbe essere così della resistenza, magari si va dal concorrente che ancora non l'ha aumentato eccetera e quindi spesso le imprese ricorrono a questi stratagemmi, quindi questo va detto, ma in generale comunque è un aumento molto preoccupante anche perché si teme possa aumentare in futuro e in particolare sul cibo e oltre al problema dell'aumento dei prezzi c'è poi il problema, il rischio, ma sempre più concreto proprio di carenza di beni, scaffali vuoti, problemi di approvvigionamento che se diciamo riguardavano soprattutto il terzo mondo erano note le foto di paesi diciamo anche in difficoltà anche se non ovviamente del terzo mondo, magari parliamo del Venezuela, a volte dell'Argentina con tassi di inflazione molto alti e quindi di conseguenza tutta una serie di problemi di approvvigionamenti, scaffali vuoti. Adesso i scaffali vuoti si vedono anche in Europa, nel Regno Unito, in alcune zone dovute a una tempesta perfetta di tutta una serie di fattori di cui avevamo parlato nel recente video sull'aumento del costo delle materie prime, quindi diciamo e in particolare della crisi energetica che comunque impatta su anche questo, è tutto collegato. Però per quanto riguarda il cibo io vorrei partire come dicevo all'inizio da un articolo di Reuters in cui il titolare della più grande società di pollame del Regno Unito, che appunto alleva circa un terzo del pollame consumato nel Regno Regno Unito ha dipinto un quadro molto fosco, circa due o tre giorni fa quando è uscito l'articolo, sul futuro dell'approvvigionamento del cibo, dicendo in sostanza che l'epoca del cibo a buon mercato è finita, un'epoca che è durata negli ultimi venti anni. Noi diamo che scontato che il cibo costi poco, poco nel senso relativamente, ovviamente dipende cosa acquistiamo, però oggi effettivamente possiamo comunque comprare anche carne, pasta, latte, tutta una serie di prodotti di base a prezzi anche molto bassi in certi supermercati, magari diciamo cosette sottomarche, ma poi alla fine magari la qualità è buona o uguale, spesso si paga solo la pubblicità, il nome. Comunque effettivamente lui faceva l'esempio un intero pollo, costa tre sterline lì, quanto una pinta di birra, che è assurdo lui dice, comunque è qualcosa a cui ci siamo abituati negli ultimi venti anni ma che non è scontato e che secondo lui sta finendo. Sta finendo per tutta una serie di fattori che poi vengono analizzati nell'articolo, alcuni diciamo riguardano soprattutto il Regno Unito, altri però riguardano tutto il mondo occidentale o tutto il mondo in generale in base a quello che sta succedendo in questo periodo assurdo. In particolare lui evidenzia, oltre alle cause, i possibili effetti è quello su cui mi vorrei concentrare, sostenendo che ancora non avremmo visto i veri aumenti di prezzi, cioè se nel Regno Unito nell'articolo diceva i prezzi del cibo sono aumentati dello 0,2% nell'ultimo anno, quindi praticamente nulla, lui parla di un'inflazione del cibo a due cifre, quindi addirittura oltre 10, 20, non lo so, per cento o qualcosa del genere lui parla, spiegando appunto tutti i fattori che determinano questi aumenti di prezzi e leggendoli effettivamente secondo me molti possono riguardare anche noi. Lui parlava in particolare di un aumento del costo della mano d'opera dovuto soprattutto alla Brexit. Quello diciamo appunto riguardo il Regno Unito, lo sappiamo tutti, il motivo tutta Europa, diciamo almeno i paesi un po' più in difficoltà, anche l'Italia, Spagna, molti paesi dell'est, emigravano molti cittadini nel Regno Unito, parliamo di centinaia di migliaia di persone, sfruttando la possibilità del Regno Unito, appunto dell'Europa di poter circolare liberamente e stabilirsi liberamente, libera circolazione di merci e di persone, offrendo alle imprese inglesi un manodopera a bassissimo costo, creando però chiaramente competizione con i lavoratori inglesi, soprattutto diciamo per manzioni più basse, perché questo ovviamente abbassava gli stipendi, consentendo alle imprese inglesi di avere in manodopera a bassissimo costo. E questo probabilmente è stato il motivo principale che ha fatto sì che il voto della Brexit fosse favorevole nel Regno Unito, appunto perché era una situazione effettivamente evidente, anche perché probabilmente tutti un po' parlano l'inglese, perché comunque il Regno Unito era uno dei paesi economicamente messi meglio, quindi tutta una serie di fattori che faccia sì che tanti si trasferivano lì, veramente a volte io vedevo persone, partivano con una borsetta, quattro vestiti e partivano, magari stavano col sacco a pelo dagli amici, ma partivano, andavano per un periodo, addirittura con l'idea di trasferirsi nel Regno Unito. Tutto questo con la Brexit è finito, soprattutto per i livelli diciamo di lavoro più bassi, creando però tutta una serie di problemi nel Regno Unito, perché c'è stato uno shock in cui appunto tutta una serie di lavori diciamo di basso livello, tra virgolette, nel senso comunque che magari faccio ad esempio nell'articolo trasportatori, operai, anche macellai, chiaramente non venivano più svolti o comunque il costo è molto maggiore, è difficile trovare in mano d'opera, eccetera, che era un po' quello che probabilmente volevano i fautori del referendum, cercare di alzare gli stipendi per i cittadini inglesi. Questo però chiaramente si ripercuote sui costi sostenuti dalle imprese e quindi sui prezzi. E fin qui uno può dire vabbè è un problema degli inglesi, cavoli loro in teoria. Poi anche sull'articolo viene analizzato il fatto che questo può spingere a un'ulteriore automazione, ricordava le frasi di Boris Johnson che diceva no ma questo è un bene perché comunque aumenta lo standard di vita soprattutto dei lavoratori di più basso livello, inglesi, che chiaramente subendo quella enorme concorrenza magari dell'operaio dei paesi dell'est o anche a volte italiani, spagnoli o di altri paesi, insomma che magari pur di stare lì, visto che non trovavano lavoro in patria, erano disposti anche a prendere uno stipendio di sopravvivenza, molti vivevano insieme, eccetera, chiaramente abbassava lo standard per tutti. E questo diciamo è uno degli aspetti. Ma nell'articolo si ricordano altri aspetti, in particolare gli alti costi di trasporto, gli alti costi legati anche all'energia, in particolare parla di un aumento del costo dell'energia elettrica e dei permessi di emissione di anidride carbonica del 500%. Ecco perché a volte si dice colpa della transizione ecologica, ossia a volte banalizzando, però effettivamente questo meccanismo di incentivazione alla maggiore efficienza energetica spesso non si tramuta in investimenti per l'ambiente, ma semplicemente in un aumento dei costi dei produttori che poi scaricano sul consumatore, magari lasciando gli impianti obsoleti perché comunque non gli conviene. O addirittura, come sta avvenendo adesso nelle centrali, nel paradosso che l'alto costo dell'energia comunque non disincentiva l'utilizzo di carbone che è aumentato di prezzo moltissimo. Chi ha investito nel carbone che sembrava morto come investimento un anno fa dovrebbe aver fatto soldi a palate perché invece il carbone adesso è ultra richiesto per le centrali che comunque hanno bisogno di carbone, così anche per il gas naturale, tutti quei combustibili che sembravano scomparse. Questo non perché ovviamente sia sbagliata la transizione ecologica tutt'altro, ma perché bisogna pensare alle conseguenze di ciò che si fa. Tante volte invece chi fa le leggi ha un po' l'arroganza, l'onnipotenza, di pensare, di poter decidere cosa avverrà. Invece poi c'è tutto un meccanismo di mercato che esiste anche nei sistemi comunisti, esisteva comunque un sistema di domande e offerta per cui se anche veniva eliminato per legge si creavano tutta una serie di distorsioni, mancavano magari dei beni, ce n'erano troppi altri eccetera. E questo comunque si sta vedendo in un semplice aumento dei prezzi di tutta una serie di beni, servizi e quindi inflazione dovuto a delle politiche ambientali che forse magari sono state fatte in un modo non da trasferire tecnologia ma semplicemente cercando di creare degli incentivi o disincentivi economici a fronte poi magari della impossibilità tante volte di appunto creare energia pulita nelle quantità che si vorrebbe eccetera. Questo poi è un discorso che avevo già trattato in un altro video, è molto divisivo, mi rendo conto che tanti la pensano in un modo o nell'altro. Però l'effetto oggettivo è che c'è un grosso aumento dei prezzi dovuto appunto a queste quote di anidride carbonica. Quindi questo può riguardare ovviamente bene anche tutta l'Europa, c'è proprio un sistema europeo delle quote che è previsto per questa funzione. Appunto i costi alti di trasporto, tutta una serie anche di normative secondo alcuni legate a diciamo alla limitazione dell'autoproduzione, questo è anche un tema che vorrei così accennare qui, ma anche questo molto delicato, però penso sia importante per avere un quadro generale, poi mi piacerebbe avere anche da voi un'opinione, cioè quello del benessere degli animali e dell'autoproduzione di ortaggi. Per noi è normale, questo forse è anche uno dei lati positivi del nostro paese, quasi tutti hanno magari un parente che ha un orto o magari qualche gallina, qualche coniglio e è considerato normale. Questo tipo di autoproduzioni chiaramente diventa molto importante sia perché comunque garantisce una sussistenza minima per molte persone, anche magari con pensioni o stipendi bassi, sia anche perché appunto in caso di forti aumenti di prezzi e tutte le dinamiche che abbiamo visto incide meno sui costi di una famiglia perché se comunque magari non so un terzo o la metà dei costi che si sostengono per l'acquisto del cibo vengono autoprodotti è un grosso aiuto. Tutto questo diciamo può essere messo a rischio da alcune misure di cui si sta parlando sempre più a livello legale che nascono ovviamente con finalità assolutamente nobili ma che secondo alcuni potrebbero involontariamente generare dei grossi danni. Parlo in particolare di alcune limitazioni, diciamo leggi contro il maltrattamento degli animali, contro gli allevamenti intensivi che sono ovviamente sacrosante, ci sono immagini terrificanti che si vedono di come sono questi allevamenti. Tuttavia magari per dire vietare le gabbie molti dicono sì ma allora chi tiene magari le galline in casa improvvisamente diventa illegale. Di fatto queste norme rischiano dipende poi come vengono strutturate ma rischiano di far sì che magari di fatto non si può autoprodurre cibo e lo stesso potrebbe valere anche per gli orti se non vengono fatte bene perché per esempio c'è chi propone di dire per evitare di compromettere l'ecosistema bisogna fare solo dei semi autorizzati di vieto di utilizzo di semi non autorizzati eccetera quindi anche autoprodotti e questo da un lato farebbe sì potenzialmente che uno deve ogni anno comprarsi semi delle vari multinazionali che li producono magari geneticamente li strutturano in modo tale che non possano riprodursi e quindi si è comunque costretti a comprare quei semi al prezzo che diranno loro quelli che diranno loro eccetera anche lì c'è questo pericolo se si regolamenta troppo il discorso dell'autoproduzione quindi è un tema molto delicato che alcuni stanno affrontando e diciamo che può sollevare preoccupazioni soprattutto in un periodo come questo in cui c'è il rischio che il cibo scarseggi almeno in futuro e quindi ecco sono dei temi secondo me molto molto delicati ma che bisogna valutare ecco poi anche lì bisogna vedere queste leggi come vengono strutturate ma magari anche nascendo da buone intenzioni sacrosante intenzioni possono diventare un rischio si è visto recentemente in california che diciamo è lo stato americano più all'avanguardia con tutta una serie di normative a volte anche molto discutibili ma sicuramente molto diciamo pioniere in tutta una serie di misure di tipo sociale di tipo anche appunto in ambito sì insomma diciamo sociale ma progressista ecco come veniva il termine una di queste riguarda appunto il maltrattamento degli animali e questa legge ha previsto che per allevare i maiali serve minimo un grandissimo spazio per ogni animale anche questo è uno magari dice giustissimo tuttavia questo ha creato dei grossissimi problemi di approvvigionamento di carne di maiale anche perché da come leggevo ovviamente non è che si può importare da un altro stato se si importa da un altro stato la legge della california comunque prevede che quell'animale deve essere stato allevato con tutti quei parametri e faccio ad esempio di alcuni ristoranti anche diners per esempio san francisco per i quali o il prezzo del maiale è schizzato alle stelle quindi non sono più in grado di offrire colazioni o pranzi ai prezzi di prima sono decollati i prezzi perché chiaramente i produttori vogliono molti più soldi e dall'altro lato proprio a volte mancano perché magari non ci sono abbastanza produttori che riescono a rispettare quegli standard anche qui c'è chi dice bene un bene perché così si consuma meno carne si inquina di meno e quindi si rieducano diciamo le persone però a quale costo non diventa tante volte una scelta consapevole di chi magari dice fa male la carne c'è tanta sofferenza dietro e la riduco o magari quel tipo di allevamenti appunto cosiddetti free range dove appunto l'animale cresce liberamente vive liberamente e come si dice soffre solo l'ultimo giorno della sua vita ma comunque l'animale è sano è forte e quindi anche chi mangia quella carne ovviamente mangia qualcosa di diverso ovviamente quelle carni costano molto di più ma chi magari crede ecco appunto nella salute dell'animale nella salute della persona magari decide di comprarle qui è una scelta libera è una cosa educativa di là invece si vuole creare proprio un meccanismo di mercato per cui si dice ti costringo a fare quello che io ritengo che sia giusto per me per il pianeta eccetera sono cose molto discutibili sono temi delicati però anche questo anche questo tipo di normative potrebbe avere un fortissimo impatto sul costo del cibo e non solo della carne ma di tutta una serie anche di verdure di ortaggi legato appunto sempre al discorso dell'ecosistema dei dei terreni oltre poi il costo stesso per produrli per esempio i concimi vengono prodotti in gran parte con il metano che è aumentato molto di prezzo ci sono tutti i costi dei trasporti del petrolio legato a tutti i trattori apparecchiature per seminare arare raccogliere cereali eccetera quindi tutto questo sta scaricandosi sul prezzo del cibo e secondo appunto il titolare di questa impresa che è considerato il re del pollame diciamo del regno unito vi dico il nome spero di pronunciarlo bene Ranjit Singh Boparan comunque e secondo appunto questo inglese ancora non li abbiamo visti gli aumenti dei prezzi del cibo e quindi fatto questo quadro un po non dico fosco ma comunque diciamo di allerta cosa si può fare per le soluzioni secondo me possono essere molteplici come ho detto nel video investire nel cibo in cui poi vi rimando non posso anche inserire qui sotto in descrizione chi può secondo me può cominciare a pensare anche auto produrre frutta verdura e perché no anche allevare degli animali insomma prendere uova fresche cose così basse ovviamente allo spazio che si ha la voglia al tempo alle competenze che ognuno di noi ha oppure magari come dicevo in quel video creare anche di gruppi di persone dei consorsi delle anche più o meno formalizzati magari dei gruppi di persone che scambiano ce ne sono vari delle cooperative insomma quello che sia organizzati più o meno facevo l'esempio anche dei cosetti orti urbani ce ne sono in varie città per esempio a Milano vicino casa mia ce ne erano vari che appunto vedevo erano sempre con persone era anche una cosa educativa era molto bella come iniziativa secondo me e quindi ecco le soluzioni di auto produzione diretta ce ne sono poi se invece magari a livello finanziario si vuole investire c'è il solito investimento in per esempio etc che investono in grano in tutta una serie di materie prime alimentari anche carne bestiame eccetera se si ritiene che il prezzo di queste merci possa aumentare sul mercato ovviamente è tutto incerto legato alla speculazione a quello che sarà poi il mercato però se magari si ritiene che possa avvenire si potrebbe anche fare un investimento per cui diciamo copriamo i costi di aumento del costo del cibo che andiamo a prendere al supermercato magari con quegli investimenti in modo più o meno indiretto anche questa era una soluzione che proponevo poi per quanto riguardava l'acquisto di terreni anche lì per l'autoproduzione ricordavo anche la questione della sicurezza cioè se i prezzi del cibo dovessero molto aumentare in futuro c'è il rischio concreto che magari se non so un una mela dovesse valere tre quattro euro magari qualcuno di notte magari in modo subdolo anche con la forza arriva lì magari si ruba tutte le nostre mele magari se le rivende ovviamente nella storia è pienissimo di esempi basti pensare anche la seconda guerra mondiale quante persone se si erano arricchite col mercato nero del cibo quindi chiaramente se si ritiene che possa avvenire uno scenario del genere e si vuole autoprodurre bisogna anche pensare secondo me a proteggere poi quegli eventuali diciamo frutti e cibo che poi andremo a produrre e per quello magari può essere utile anche organizzarsi oppure magari farlo a casa propria comunque in un ambito in cui si è in grado di controllare è interessante anche tutta una serie di tecniche che stanno nascendo per coltivare anche frutta verdura sui balconi per esempio farle rampicanti insomma è pienissimo di video in internet per chi ha voglia e tempo con soluzioni anche innovative che io non immaginavo neppure fossero possibili quindi ecco per chi è interessato vi invito a farlo può sembrare poco finanziario questo video ma alla fine l'economia comunque è la tecnica che diciamo la scienza che dovrebbe studiare la l'allocazione delle risorse per definizione scarse e il cibo è probabilmente quella più importante insomma a livello materiale almeno io vi ringrazio e per ogni domanda commento come sempre scrivete qui sotto fatemi sapere anche le vostre opinioni le vostre idee se avete segnalazioni in merito e vi ringrazio ciao a tutti e vi ringrazio ciao a tutti e vi ringrazio ciao a tutti